La pace dei santi sia con voi. Il 16 gennaio la Chiesa celebra la memoria di Santiziano, vescovo. È un santo nato e vissuto nella zona del Veneto, comprendente Vittorio Veneto e buona parte della provincia di Treviso. Tiziano nacque nella seconda metà del secolo VI da una nobile famiglia di Eraclea nel Veneto. Ebbe come maestro San Floriano e da lui fu ordinato diacono e sacerdote e poi economo di quella diocesi. Primeggiò nell'amore verso i poveri, che invitava a casa sua e nutriva con i propri mezzi. La sua fama si estese in tutta la regione. San Floriano lasciò poi la diocesi per diventare missionario e al suo posto il clero e il popolo elesse Tiziano, vescovo di D'Erzo, sebbene questi avesse tentato di far ritornare Floriano in sede. Resse la diocesi in modo eccellente, ammaestrò con la parola l'esempio, visse molto santamente, divenne famoso per la sua appropriata predicazione nel fuggire l'eresia ariana, allora dilagante fra i longobardi invasori, non accettando lo scisma estriano detto dei tre capitoli. Pieno di meriti e di santità, Tiziano morì a D'Oderzo il 16 gennaio 632 e fu sepolto nella chiesa cattedrale della sua città, dove la tradizione dice avvennero molti miracoli. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di Sant'Iziano ed auguri a quanti il 16 gennaio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.